abbiamo convocato questa conferenza stampa oggi perché è il primo aprile 2022 cioè all'indomani della scadenza che il vicepresidente imprudente in un incontro dell'ottobre scorso aveva segnato come deadline per avere novità e passi avanti sulla vicenda dell'irrigo del fucino invece purtroppo ci siamo svegliati questa mattina con il pesce d'aprile per la marsica questi passi avanti non ci sono siamo ancora fermi alle promesse e agli annunci si parla ancora della vicenda della progettazione che arap avrebbe assegnato ma ancora niente né dal punto di vista delle approvazioni di queste progettazioni né soprattutto del ripristino dei 50 milioni per la grande opera del fucino 50 milioni che ricordo furono stornati furono eliminati durante il covid con la motivazione del covid ma che in realtà abbiamo già dimostrato in precedenti conferenze stampa sono finiti in una sorta di bancomat regionale che ha finanziato attività di vario genere che non avevano a che fare con l'emergenza quindi siamo qui ancora per ribadire che questa vicenda va assolutamente sanata perché c'è un territorio intero fatto di opinione pubblica di operatori del settore di addette ai lavori di portatori di interesse che non può accettare questo trattamento da parte del governo marsilio e diciamo fatto solo di annunci senza atti concreti e poi questa conferenza stampa è anche un po il punto d'arrivo di settimane di ascolto del territorio e anche di un tour organizzato a contatto con gli operatori agricoli e per prendere visione della vicenda della viabilità del fucino che è un grande tema che attiene alla sicurezza e anche all'economia di questo territorio nelle scorse settimane a prima firma pd a prima firma paolucci è stato presentato in consiglio regionale un progetto di legge che vuole dotare i comuni fucensi di 6 milioni in tre anni per affrontare la vicenda della viabilità e della scarsa sicurezza che c'è sulla viabilità fucenze speriamo che la maggioranza regionale voglia appoggiare questo progetto di legge che risponde alle domande che vengono che vengono dal territorio con grande forza terza questione abbiamo anche raccolto un po il grido di dolore che i sindaci hanno affidato alla stampa nelle settimane scorse stiamo andando verso la bella stagione ma tanto bella per l'agricoltura non sarà diciamo che gli elementi i segni della siccità si stanno già facendo molto sentire il problema della crisi idrica è ogni anno più grave quindi anche da questo punto di vista c'è la necessità di un'attenzione vogliamo prenderci anche noi dai banchi dell'opposizione una quota di responsabilità di azione politica per anche su questo andare incontro alle richieste del settore agricolo